Ennesima indigestione di mete per la City of Lions che nel pomeriggio di ieri, al Beltrametti, ha surclassato i Cavalieri Prato con un perentorio 67-6. Si trattava di un match valevole per la prima giornata di ritorno della Pole 1 promozione del campionato di Serie A, sfida di cartello, e che alla vigilia palesava esiti quantomeno incerti vista la qualità delle due compagini. E invece? Tutto semplice per i ragazzi allenati da Paolo Orlandi, avanti dopo solo i due minuti grazie al piazzato di Guillomò, pareggiato un minuto dopo da Puglia. Partita che rimane aperta fino al 23esimo, dopodiché i bianconeri hanno dilagato. Ben 10 le mete messe a segno con altrettanti marcatori, un risultato che rappresenta un'autentica iniezione di fiducia per i leoni piacentini. Prosegue dunque l'inseguimento ai danni della capolista Cus Genova con lo scontro diretto in programma il 22 aprile al Beltrametti.